Cambiamenti climatici e conseguenze per il nostro mare. Questo è il tema del convegno che si svolgerà giovedì prossimo a Siculiano, organizzato dal WWF. L'occasione servirà a divulgare i risultati delle ultime ricerche scientifiche. Noi da dieci anni precisi che abbiamo posizionato con l'INGV di Catania, quindi stiamo parlando di un organismo nazionale, stiamo posizionando delle sonde nello stretto di Sicilia, in seno ai vulcani, nello stesso punto. Quindi siamo forse gli unici, almeno nel Mediterraneo, a avere dei dati affidabili e attendibili su queste variazioni climatiche. Un dato importante è quindi che noi abbiamo documentato e registrato queste variazioni. Giustamente, che cosa comporta questo? Uno studio molto interessante è la variazione della percentuale dell'ossigeno in queste acque. Cioè, che cosa succede? Perché quando si riscaldano le acque? Cioè, non lo so, nell'ideale collettivo ci dovrebbe essere l'acqua più calda e c'è più pesce. In realtà non è così. Nelle acque più calde diminuisce la pressione parziale dell'ossigeno, per una legge di fisica che è la legge di Henry. Quindi, diminuendo la pressione parziale dell'ossigeno, il pesce cerca, scappa, fuggendo in area dove c'è più ossigeno, quindi nelle acque più fredde. Questo succede in profondità e succede in superficie. Di contro, alcuni pesci che sono abituati a vivere in queste acque calde, quindi nei mari tropicali, arrivano nel nostro mare. E tra questi pesci ci sono dei pesci molto pericolosi, come il pesce istrice o pesce palla, già pescato a sciacca un paio d'anni fa, un esemplare da due chili. E grazie alla sensibilità dei pescatori che hanno capito che si trattava di qualcosa di strano e non hanno tagliato la testa, lo hanno diviso in tranci e commercializzato, si sono salvate forse tante vite umane. Questo pesce istrice contiene nelle gonadi e nel fegato la tetradotossina, che è uno dei veleni più potenti che c'è in natura e che danno la morte proprio in pochi minuti senza possibilità neppure di un antidoto. Quindi stiamo parlando di cose concrete. Un altro dato che stiamo riscontrando è l'aumento che si chiama ipercapnia, quindi in alcuni pesci aumenta l'anidride carbonica perché aumenta l'anidride carbonica disciolta nelle acque e il loro comportamento varia. Variando sono più facili per questi pesci essere predati appunto dai pesci che si nutrono di quelli più piccoli e soprattutto l'aumento dell'acidità di queste acque sta facendo sciogliere i gusci calcari di alcuni crostacei e anche di alcune conchiglie, dei coralli. Quindi immaginate che situazione devastante avremo nell'arco di una cinquantina d'anni. Conseguenze che si riflettono anche su un importante comparto dell'economia locale come quello della pesca. Generalmente le associazioni ambientalistiche sono un po' così la controparte dei pescatori. Io invece li difendo veramente perché alla base della catena alimentare dell'uomo c'è la pesca. Insomma qui dobbiamo anzi ringraziarli veramente per quello che stanno facendo. E noi stiamo assistendo a due situazioni in questo momento tutte e due drammatiche. I pescatori di Licata che si rivolgono alle autorità perché si stanno vedendo posizionare un'altra trivella per estrazione petrolifera davanti al mare di Licata. Quindi loro sono costretti ad aggirare queste trivelle per oltre un miglia e mezzo. E quindi questo per loro, le trivelle fanno scappare i pesci. La marineria di Sciacca, andate a Sciacca, parlate con un pescatore di Sciacca e vi dirà che pesce letteralmente non ce n'è più. Il banco di Graham, quindi l'isola Ferdinandea, che era un oasi, un paradiso di biologia marina sotto tanti aspetti. Noi abbiamo documentato anche con voi, con la vostra televisione, mi ricordo ormai 15-20 anni fa, tra delle immagini bellissime di questo tratto di mare ricchissimo di pesce, pesce non ce n'è più. E vi posso garantire che la colpa non è assolutamente dei pescatori di Sciacca, anche perché sapete voi la pesca come è regolamentata, come sono rigidamente applicate le leggi e anche l'azione significativa della guardia costiera. Quindi non diamo la colpa ai pescatori perché secondo me sono proprio i primi a subire gli effetti devastanti di questo riscaldamento nel Mediterraneo.